Adurico del Corso Il cuore pulsante nell'orchestra Albasso Beppe Fiori Il ricco macabrone della batteria di Beppe Fuscito L'acquilibrista della coda Carlo Fota Ocana Questa sera tra noi un grande ritorno Un'ospitata speciale per noi Un bel applauso per l'uomo Alberto Filovano 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 Tenete pronte le mani, tenete pronte le mani per la voce, la violenza, la teatralità di Moreno, Sguangia e Rioaca. Non sono distante spero, perché adesso arriva colui per i quali sogni e per qualche incubo l'orchestra ha potuto avere nascita. Un bel applauso per Silvano Sperini. Sì, no, abbiamo dimenticato di presentare una persona di una discreta importanza, ma lascio l'onore. È il caldo, è il caldo che ci riconosce in fin di conto. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi un po' età, un po' cantante, un po' immonitore. Per cacchio, vai, vieni qua. La voce più sexy della stile orchestra, signore e signore mister Paolo Magrata! Io vorrei presentare un po' di persone importanti, anche se non si vedono molto spesso. Allora, il responsabile delle protezioni, GP. Poi, Tommaso Melideo, scinografie, la vara, le cose, le cose, le scoffe volanti. Tommaso Melideo. E poi, la nostra preziosissima Chiara, la nostra costumista. Lorenzo Caperchi, laggiù nella capanna. Giratevi, guardatelo. Lui, alza le braccia. Lui, lui. Il nostro fanico è fantastico. Poi, il Bloom, il Carlo Conte, che per il terzo anno ci ha dato l'opportunità di suonare qua. Vi invitiamo a venire i fotografi. E poi, no, questa me la sono preparata 30 secondi fa. A proposito di sogni, incubi, mai avrei sognato di vedere questo panorama qua, grazie a voi. E di nuovo, trovarci su Facebook, mettete un mi piace, se vi ha piacere, postate le foto e non ci fa molto piacere. Abbiamo finito. Ora andiamo a casa. Ho l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno. A Miss Viviana, me la dai la prienza! Ragazzi, io asserò... Non sappiamo dov'è. Comunque, auguri Viviana. Mi asserò con un ultimo peggio, se c'è la vuoi. Sì? Sì? Sì! 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 Agli strumenti! Per chi volesse portarsi a casa un piccolo ricordo, lasciate il nostro merchandising vicino a quel bar là, a quei ragazzi là. Sì! Sì! Grazie! Grazie! Attacca Beppe! Ehi, prestatemi le orecchie, perché in Cenea Ho beato chi ha un occhio e se lo asciugherà Racconto la storia, come e come verrà Nella cosa graziosa della Valdivano Ehi, dai, trovi che a te Morire da intranza, che male c'è Tu prova scappata, domanda te i santi Ma doveva il figlio e morire tutti quanti Ehi, 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 ehi Ehi, la voce con se è una realtà Comunque l'estero è venuta in città e la palla è prestante ma povero in canna e la bimba grulò come a un sacco di panna ma suo padre fu, no, il sacco come uno schiavo si prende lo stretto diffuggendo il galoppo Vai, vai, dove per te non è la dottanza che mai c'è tutto lo scopato a comandare i santi ma dovremmo a fine morire tutti i quanti è farina saluta Un piano, un piano, un'esempiera di gaffe Cosa avevano in mente? Nessuno lo sapeva Lei mise il vestito che sua mamma portò Era pazza d'amore e si accontentò Tre o quattro cosi un c'è Provò a trovare i gioielli dei nonni Un sacchetto di perle Sotto l'albero antico, questa gioca un po' santo La nebbia, il buio, le tre, nemmeno un quarto C'era svolta anche lei, ma lui non vede E il poi L'ho aspettato Poi Quello nell'ombra è la sua Carro ponte, adesso tocca a voi E il poi Il suo povero colcepido è così forte E il poi E poi dolcezze La storia finisce come a doggia si sa Lei fu stata in eterno E la storia finisce come a doggia si sa E il poi E la storia finisce come a doggia si sa Grazie! Una, due e tre! Paraponte, facciamo una foto di corpo con voi! Alzate le mani! Caraponte, le mani! Grazie! Grazie a tutti! Alla prossima!